...progetto numero 8, piano di monitoraggio dei contaminamenti ambientali di origine animale prodotti nella concaternana ex delibera numero 510 2015, chiarimenti della giunta regionale al riguardo. Interroga il consigliere De Luca. Grazie Presidente. Nel 2011, a seguito di un accordo fra lo Stato e le regioni, è stato avviato un piano di monitoraggio sui contaminanti ambientali all'interno degli alimenti destinati al consumo umano in tutti i SIN dei siti di interesse nazionale sottoposti a bonifica del territorio nazionale e quindi la regione Umbria ha dato avvio a questo monitoraggio. Nel 2012 e nel 2013 sono stati riscontrati su circa 20 allevamenti presenti all'interno della concaternana per circa il 50% dei campioni un superamento della soglia di attenzione e della soglia di allarme, quindi il limite di legge di pericolo per la salute umana per quanto riguarda i policloro bifenili e la diossina. Quindi la presenza di questi contaminanti all'interno delle uova. Tra il 2012 e il 2013, sempre all'interno del latte, ovi e caprino, sono stati riscontrati una quantità di diossina superiore alla soglia di azione. Quando, secondo le normative europee e quindi le normative nazionali quando scatta il superamento della soglia di azione l'autorità sanitaria deve intervenire per accertare la sorgente di contaminazione. Quando scatta la soglia di allarme l'autorità sanitaria e le istituzioni devono intervenire per rimuovere la sorgente di contaminazione e quindi andare a sopperire di fronte a un pericolo imminente per la salute umana. È stato acclarato in maniera unanime da tutte le forze politiche all'interno del Consiglio Comunale di Terni che queste comunicazioni non sono avvenute in maniera tempestiva nei confronti del sindaco, autorità sanitaria locale, né tantomeno della cittadinanza, ma con anni e anni di ritardo. Ricordiamo come la ASL nel 2014, a fronte di questi campioni, rassicurava la popolazione affermando che in base ai dati in nostro possesso non è mai stata superata la soglia di pericolo per la salute pubblica, non vi è alcun dunque rischio per i consumatori. Queste erano le rassicurazioni che venivano fatte. Rilevato che a seguito dell'intervento di associazioni ambientaliste, di comitati, la Regione Umbria diede avvio a un piano di monitoraggio, su cui sarebbe anche il caso di capire definitivamente quanto ci è costato, che ha portato avanti l'analisi di questi campioni, eliminando sostanzialmente e obbligando gli allevatori a portare al chiuso gli allevamenti e quindi non più ad esporli all'ambiente. Il quesito che poniamo all'assessore è quello di cercare di capire se sia attendibile un monitoraggio che passa da oltre 20 campioni nell'area del Comune di Terni arrivando a due campioni all'anno per quanto riguarda le uova e poco più per quanto riguarda il latte. Come è possibile questa situazione e se è possibile fare, ritenere attendibile scientificamente un monitoraggio in cui non vengono registrati né la provenienza degli alimenti, quindi dei mangimi e dell'alimentazione se quindi è stata prodotta in particolar modo all'interno, autoprodotta all'interno dell'area Senna e se questi allevamenti siano stati effettuati all'aperto o al chiuso. Grazie. Grazie consigliere De Luca. La parola all'assessore Coletto. Allora, il monitoraggio da concaternana. A seguito di un incendio di un deposito a Vascigliano comune di Stroncone furono rilevate alcune positività per i PCB nei foraggi coltivati nella zona e in alcuni alimenti. Per avere un quadro più completo del livello di inquinamento della zona, la Regione Umbria ha adottato con DGR 510 2015 per cui viene previsto un piano di monitoraggio articolato nel quinquennio 2015-2019. Tale piano prevede il controllo della filiera agroalimentare nell'area di studio, attraverso il campionamento ed analisi di matrici alimentari di origine animale e vegetale destinate all'alimentazione umana e nei foraggi destinati all'alimentazione animale. Per accertare i livelli di contaminazione del PCB, IPA e metalli pesanti, arsenico, piombo, cadmio e mercurio. Il progetto ha quindi permesso di valutare a conclusione del piano di monitoraggio l'andamento nel tempo dei livelli di contaminazione e l'esposizione umana delle sostanze in esame. Le matrici alimentari del campionare sono state individuate sulla base della loro capacità di accumulare gli inquinanti di natura organica e inorganica di interesse o di rappresentare comunque le matrici adatte per lo studio dei contaminanti di origine ambientale oggetto di indagini. Il prelievo dei campioni è stato effettuato ai servizi medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'US Umbria II, i quali in caso di necessità hanno sollecitato l'adozione di provvedimenti sindacali a tutela della popolazione. I risultati nel corso del quadriennio, del quinquennio, sono state organizzate varie riunioni con i rappresentanti del Comune di Terni, dell'azienda Umbria II, dell'Istituto Zooprofilatico Sperimentale dell'Umbria delle Marche e di Arpa Umbria, per fare il punto sullo stato di avanzamento del monitoraggio e per valutare i livelli di inquinamento ambientali e delle acque e degli alimenti analizzati. L'ultimo in ordine di tempo si è svolto il 28 gennaio scorso. Nel corso della stessa si è messo in evidenza la selezione delle aziende agricole all'interno dell'area di studio e dell'individuazione delle relative particelle di terreno, hanno rappresentato un elemento di criticità. Assenza di allevamenti intensivi nella zona, diminuzione nel corso degli anni dell'adesione dei privati cittadini al piano, con il loro rifiuto di mettere a disposizione le materie prime da analizzare. Diminuzione degli allevamenti rurali a seguito anche dell'ordinanza 67571 del 6 maggio 2016, emanata dal Sindaco di Terni su indicazione dell'Asda Umbria 2, con cui veniva disposto il divieto dell'allevamento all'aperto degli animali. In attesa delle valutazioni finali che saranno disponibili entro fine del mese, si può affermare che ogni anno sono stati eseguiti circa 40 campioni di alimenti di origine vegetale e animale. La quasi totalità degli alimenti campionati hanno dato esito negativo nella presenza di contaminanti. In alcuni casi si sono avuti risultati borderline che hanno evidenziato la necessità di approfondire le ricerche per cercare di individuare con precisione la fonte di contaminazione. Un campione di carne bovina per PCB di ossina simili, un campione di latte ovino ed uno di uova di gallina per PCB. Pochi campioni hanno superato i limiti di legge, uova di gallina per PCB e vegetali per metalli pesanti. In questi casi sono stati presi provvedimenti a tutela della salute dei cittadini, vede ordinanza del Sindaco di Terni sopra citata. Relativamente alla messa in evidenza dell'esiguo numero di uova campionate si rappresenta che questo è stato causato dalla diminuzione nel tempo dell'allevamento rurale di galline e all'alta conseguente impossibilità di reperire uova di galline allevate ed alimentate con mangimi prodotti a partire da coltivazioni locali. Appare tuttavia forviante valutare la validità del monitoraggio basandosi soltanto sul numero di campioni eseguiti sulla matrice di uova, in quanto il piano ha preso in considerazione molti altri alimenti prodotti nella concaternana e solo valutando globalità dei risultati è possibile tratteggiare un quadro attendibile. Appena in possesso delle valutazioni finali sui risultati del quinquennio verrà valutato l'andamento del tempo, il livello di inquinamento negli alimenti e l'esposizione a cui è stata sottoposta alla popolazione. Questo permetterà di programmare su basi scientifiche eventuali ulteriori azioni da mettere in atto a tutela della salute pubblica. Grazie. Grazie Assessore. La replica al Consigliere De Luca. Ma mi permetta di dirle Assessore, ce l'hanno chiamata dal Veneto per fare e proseguire su una condotta negazionista che va avanti ormai da anni. Assolutamente falso. Ci sono gli atti che questo monitoraggio sia stato avviato dopo l'incendio di Basciliano. Questo monitoraggio è stato avviato con accordi fra il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Umbria. E' stato avviato perché Terni è un sito di interesse nazionale sottoposto a bonifica con numerose fonti di emissione industriale. Guarda caso, parliamo dei primi produttori in Europa di PCB, parliamo dei primi produttori in Europa di cromo. Allora, se noi vogliamo realmente fare come diceva uno scrittore, Charles Bukowski, che un uomo con i piedi nel forno e con la testa nel congelatore ha una temperatura media, perché di questo parliamo, questi sono dati inoppugnabili e sono stati già chiaramente posti all'attenzione di tutti i soggetti e tutte le autorità che hanno dovere di dover intervenire. Ci chiediamo per quale motivo oggi non si continui, non si prenda il toro per le corna e non si mettano in atto quelle che sono le azioni che devono essere posti in essere. Si continua a monitorare mentre quei contaminanti vanno a finire all'interno dei capelli, dei tessuti dei cittadini ternani. Oggetto numero 9. Mancata liquidazione di parte delle risorse destinate alle imprese partecipanti al bando per la costruzione, la promozione e commercializzazione dei prodotti turistici dell'investimento territoriale integrale. Trasimeno. Do la parola alla consigliera Meloni. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Questa breve interrogazione nasce dal confronto con gli operatori del Trasimeno ed anche, diciamo come ho avuto modo di dire in prima commissione, dall'importanza del piano integrato per l'area del bacino del Trasimeno dell'ITI, che sta diventando ormai uno strumento fondamentale e prioritario di investimento e promozione del territorio. Proprio perché il Trasimeno diventi sempre più un bene regionale e non soltanto un bene di un territorio che è stato per lungo tempo anche marginale in Umbria. Il piano integrato dell'area del bacino del Trasimeno è stato reso possibile grazie alla Costituzione nel 2016 dell'Unione dei Comuni, cioè dell'Unione tra gli otto comuni del Trasimeno, che possono beneficiare di questo importante strumento che ha già portato di buoni risultati nel nostro territorio di investimento. È un progetto che consta di circa 15 milioni di euro tra FEASDRA, FSE e PSR e grazie appunto alla convenzione tra la Regione dell'Umbria e l'Unione dei Comuni questo progetto si è potuto realizzare. Ora, il 14 marzo del 2018 viene presentato alle organizzazioni imprenditoriali del territorio un piano per la costituzione di reti d'impresa con un impegno per la promocommercializzazione dei prodotti turistici del Trasimeno di circa 1 milione e 800 mila euro. A metà dicembre del 2018 viene pubblicato sul BUR il piano per la costruzione, il bando per la costruzione e la promo commercializzazione di questi prodotti turistici attraverso la costituzione anche di una rete consortile di associazioni di piccoli imprenditori. Il 18 dicembre del 2019 viene pubblicata una graduatoria che ha dato diritto di accesso al contributo e però nel 18 dicembre del 2019 vengono previste delle esclusioni di spesa pari a circa il 20% di quello che era l'importo complessivo di 1 milione e 800 mila euro. Questo ovviamente ha comportato un disagio soprattutto per quegli investimenti già programmati e quegli investimenti che sono già stati effettuati dalla rete consortile. Quindi quello che noi diciamo ci interrogavamo la Giunta per capire le motivazioni che posso anche parzialmente intuire di questa contrazione se c'è possibilità di reintegro e eventualmente quando in modo da poter partecipare questa importante questione per questo territorio con la rete consortile e con tutti gli operatori turistici dell'area del Trasimeno. Grazie. Grazie Vicepresidente Meloni, do la parola all'Assessora Gaviti. Grazie Presidente. Con determinazione dirigenziale numero 12.473 del 4 dicembre il Servizio Turismo, Commercio e Sport, approvato la graduatoria degli ammessi a contributo di cui al bando PORFES 2014-20 per la costruzione e la proprio commercializzazione dei prodotti turistici, le pievi e i sentieri del Trasimeno, Trasimeno-Lago Felice e Vivi il Trasimeno. Da tale atto l'impresa ammessa a contributo sia per le spese di promo commercializzazione che di vestimento risultano essere 19. Quelle ammesse con riserva sia per le spese di promo commercializzazione che di vestimento risultano essere 3. Mentre le ammesse per le sole spese di promo commercializzazione risultano essere 3. Ed infine ammesse con riserve per le sole spese di promo commercializzazione risulta esserne 1. Per un numero complessivo di 26 imprese. Successivamente, a seguito dello scioglimento delle riserve avvenute con la determinazione dirigenziale numero 3.072 del 18 dicembre 2019 e numero 19 del 7 gennaio 2020, le imprese ammesse a contributo sia per le spese di promo commercializzazione che di investimento diventano 21. Quelle ammesse per le sole spese di promo commercializzazione ne restano 3 e una sola impresa risulta essere ammessa con riserva sia per le spese di promo commercializzazione che di investimento ed un'impresa è stata esclusa quindi per un numero complessivo in totale di 25 imprese. Con successiva determinazione dirigenziale, 13.385 del 30 dicembre 2019, il Servizio Turismo, Commercio e Sport, assunto in favore delle 25 imprese di impegno di spesa a valere sul capitolo di bilancio 0.6759 voce 8020, 8025 e 8038 per l'annualità 2019-2020 per un importo complessivo di 1.177.160,81, stante la disponibilità finanziaria effettiva del capitolo di bilancio rispetto al 1.465.223 euro necessario per cofinanziare gli interventi. Gli uffici hanno operato un'obbligata riduzione del contributo spettante a ciascuna impresa come conseguenza della mancata allocazione da parte della precedente giunta regionale delle necessarie risorse finanziarie alla voce 8020, risorse disponibili nel 2018 al momento dell'emanazione del bando, andate successivamente in avanzo di amministrazione nel 2019 e non riassegnate con l'assessamento del bilancio dello stesso anno. Al fine di porre rimedio a tale situazione e dopo aver incontrato alcuni rappresentanti delle imprese, posso affermare che sono state reperite le risorse necessarie pari a 288 mila euro e che saranno rese disponibili in seguito all'approvazione del bilancio regionale. Grazie Assessore, do la parola per la replica. Volevo ringraziare l'Assessore per l'impegno, per la disponibilità che ha reso anche alle aziende del territorio, che capisco quindi verrà reintegrato in tutto appena possibile dopo l'approvazione del bilancio. Grazie. Grazie, ora l'ultima question time, mancata adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche da parte di Comune e Province. Risponde l'Assessore Melasecche, do la parola alla consigliera Vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, cari colleghi consiglieri e gentili assessori, l'acronimo PEBA sta ad indicare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono stati introdotti nel 1986 con la legge 41 ed integrati dalla legge 104 del 92 e sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e appunto con le estensioni della norma degli spazi aperti per tutti i cittadini, sia per quanto riguarda le barriere fisiche, sia per quelle senso percettive. È di tutta evidenza quindi che la problematica, il tema che portiamo oggi alla vostra attenzione e per il quale chiediamo i vostri intendimenti, è un tema di rilevante importanza per misurare il grado di inclusione e soprattutto di possibilità per tutti di godere dei medesimi diritti di una comunità. Tante associazioni, tra cui Laila, l'associazione italiana Lotta Agli Abusi, che da sempre si adopera in tutto il territorio nazionale per portare avanti l'adozione di questi piani, insieme a tante famiglie e insieme a tante persone con disabilità, chiedono la possibilità di attivarsi affinché quella che è stata una mancanza di attenzione da parte delle scorse legislature sia sanata. Il piano di cui ogni comune dovrebbe già essersi dotato, cosa che purtroppo non rispecchia la realtà attualmente, è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un'area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani. Ricordo altresì che questo tipo di pianificazione è uno strumento molto valido per i comuni per fare una programmazione di costi e priorità e quindi evitare di agire sempre in maniera emergenziale. Ricordo inoltre che la Convenzione ONU, ratificata dal nostro Paese del 2009, stabilisce pienamente quali siano i diritti delle persone con disabilità alla vita indipendente e a un'inclusione sociale attiva. Inoltre la stessa Convenzione rende il tema dell'inaccessibilità e dell'accessibilità un elemento che condiziona in modo determinante il grado della disabilità. D'altra parte sono convinta che la Giunta abbia una grande sensibilità al tema perché sia nel programma elettorale che in quello di governo si legge come si voglia realizzare una regione accessibile in tutti i sensi, una regione per i quali le persone possano accedere a tutti i servizi, all'istruzione, al mondo del lavoro e quindi come sia necessario partire dalla base, eliminare le barriere e gli ostacoli che rendono ostile un ambiente esterno. Pertanto interrogo la Giunta per sapere se la Regione dispone di dati aggiornati sugli enti locali che ad oggi non hanno adottato il PEBA e le ragioni di tale mancato adempimento e quali misure intende adottare al fine di garantire la piena attuazione della legge del 1986. Grazie. Grazie Vicepresidente Fioroni. La parola all'assessore Melasec. Il tema della eliminazione delle barriere architettoniche è un argomento sul quale la Regione pone la massima attenzione e lo ritiene di grande importanza per migliorare la qualità della vita non solo delle persone disagiate ma anche dei loro familiari. La Regione Umbria ha aderito con delibera di giunta regionale del 2011 alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge del 3 marzo 2009 numero 18 ed ha istituito l'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità con decreto della Presidente della Giunta regionale del 2013. I compiti dell'osservatorio sono sintetizzati nel rapporto finale del lavoro svolto presentato nella prima conferenza regionale sulla condizione delle persone con disabilità che si è tenuta a Perugia il 30 novembre 2015. L'osservatorio a partire dal 1 ottobre 2014 ha avviato un'indagine conoscitiva relativa alla situazione dei PEBA nei Comuni Umbri, inviando un questionario molto semplice da compilare, ma essenziale per comprendere lo stato di attuazione dei piani. Incredibile ma vero, in una Regione che ha sempre, diciamo almeno nei convegni, dimostrato grande sensibilità al tema, hanno risposto solo sette comuni, tra i quali solo uno ha riferito di essere dotato di tale strumento di pianificazione. L'adozione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono atti di competenza appunto dei Comuni, su cui la Regione finora non ha interferito. Ritengo comunque che da oggi in poi bisogna in qualche modo, al di là della competenza formale, sollecitare i Comuni affinché si attivino in questo senso. E sarà mio compito sicuramente tentare di fare più di quello che ad onore del vero compete alla Regione stessa. La Regione ha intrapreso comunque tutte le iniziative possibili, sia per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in bassa alla legge del 1989, che per l'abbattimento delle barriere negli edifici pubblici e negli spazi aperti al pubblico, con interventi concreti sul piano economico per sostenere le iniziative che si propone la Convenzione ONU e per accogliere le proposte dell'osservatorio e le richieste dei Comuni. In quanto alla eliminazione materiale delle barriere negli edifici privati, in bassa alla legge 13 del 1989, in mancanza di finanziamenti statali, anticipò al momento risorsa del proprio bilancio che dal 2002 al 2016, per un importo complessivo di 5.373.000 euro, e con la ripresa dei finanziamenti statali negli anni 2018-19, ha erogato ai Comuni dell'Umbria 7.300.000 euro. Con l'attuazione, cerco di velocizzare, del bando PAR-FSC 2007-2013, la Regione ha individuato gli interventi per la valorizzazione e il recupero delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico, assegnando una priorità per i progetti che si proponeva l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità, ammettendo al finanziamento 21 progetti su un totale di 36. In termini economici significa che sono stati finanziati complessivamente progetti per la suddetta finalità per 2.300.000 euro su un totale di 4 milioni. La novità attuale è che abbiamo il giorno 24 a Villa Umbra un convegno aperto a tutti i Comuni e in quanto abbiamo a disposizione da poche settimane 3.600.000 euro per accogliere molte delle domande attualmente ferme ai Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche per i privati. Quindi questa credo che sia la novità più importante di questo momento, oltre al fatto che ritengo necessario da parte della Giunta un'azione di maggiore sensibilità nei confronti di tutti i Comuni per sollecitare l'adozione dei PEBA. Grazie. E dall'eprica al Vicepresidente Fioroni. Grazie Assessore. Io mi ritengo pienamente soddisfatta dalla sua risposta perché si rileva quale sia l'intenzione da parte di questa Giunta di impegnarsi affinché le azioni che come lei ha definito residuali la Regione però possano essere poste in essere perché ricordo che anche la normativa prevedeva addirittura l'individuazione di commissari ad acta per l'adozione dei piani da parte della Regione. Quindi è importante comunque continuare a vigilare e a far sì che la nostra Regione, così come nell'intendimento di tutti e di questa maggioranza, sia veramente una Regione accessibile. Credo che da parte della maggioranza, ma penso di tutto questo Consiglio regionale, ci sia su questo la massima collaborazione. Grazie. Grazie.